www.slanci-dalle-gambe Siamo facendo un lavoro basato su legge per migliorare la mobilità articolare per migliorare la flexibilità il controllo e la tenuta delle gambe il controllo del corpo e dei legge questo lavoro poi lo ritroveremo sugli attrezzi e questo tipo di lavoro è usato anche per l'apparatus per esempio per i pomelors per i scissori e i suoi elementi per le forbici per i scissori in tutti i lavori che noi faremo anche a gambe di varicardi e anche per altri apparati per gli elementi per le strada come l'endostalder e il bavshar per le bar è un lavoro che si svolge per step è un lavoro che deve essere fatto step-by-step ok semplice il più semplice è da sdraiati a terra we can have different variations from the easiest one to the more difficult the easiest one is lay down on the floor ok then the next step is with the foam cube ok per mantenere il controllo to keep the control ok si usano basi sollevate per rendere più difficile il controllo la tenuta to make the exercise more more difficult we can use different support maybe for the body so we can have the shoulder on one step and the feet on the other step without anything on the back or we can use an elastic because even if the the exercises are about the legs it's important that the gymnast have a complete body control also on the upper body so for example the elastic can help the gymnast to keep the right position of the upper body ok il lavoro inizia in forma isometrica and the exercise will start in a isometric condition si trasforma in dinamico lento then they go on with a slow dynamic situation ok and then un'esecuzione sempre molto attenta for reach the maximum and the optimal execution per poi ad arrivare a un lavoro con grande ritmo and then we will arrive with a big with a fast speed and rhythm work il ritmo si acquisisce si affronta quando il controllo del corpo sia isometrico che dinamico lento è buono è ottimo and the gymnast can perform the rhythm type of exercise when all the previous steps are good so when the control is correct and maybe we'll do a little bit faster to understand that Rossana will show you also all the steps even if not everybody is ready to do this ok ok come on ok guys the phone cube under the heels ok il cubetto è sotto i piedi i piedi devono spingere sotto le dita di you have to push starting from the toes ok braccia in fuori bacino elevato the hips the hips are not in contact with the floor braccia ok the arms are outside we will have a lot of different type of exercise but not so much repetition so we can see more exercises ok rise up the leg 90 degrees la destra sinistra ok legs together and push together the feet together push outside the right leg outside and hold the position the left leg the left one and go down ok so so here go down now in the same position so if the hip Se non spingono sul cubo, appena slanciano la gamba succede questo problema. Se non spingono il cubo, appena slanciano il cubo, e questo non è corretto. Pronti? 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 Per Gli uomo, chiudo, via, due, chiudo, tre, chiudo, quattro, chiudo, cinque, cambio, via, uno, left, chiudo, due, chiudo, tre, chiudo, quattro, chiudo, cinque, stop. Allora, loro sono così. Io voglio vedere che le spalle... Ok, ragazzi, bisogna fare più attenzione alla posizione delle schienze e delle schienze. Le spalle devono essere tese e tirate lontano. Le spalle devono essere straight. La posizione dell'opposizione deve essere con una buona amplitudine. Le spalle devono essere molto lunghe, le spalle devono essere sotto. Ok? Adesso fai. Lancia avanti, vai in fuori, chiudi, lancia in fuori, vai avanti, chiudi. Ok? Ora abbiamo alcuni circoli. Vai vedere una volta? Vai, avanti. Non voglio essere tesa questa gamba. Tesa, via. Tesa, via. Tesa, via, avanti, e chiudi. Un po' e chiudi. Cinque, cinque. Cinque. Cinque con un lato, e cinque con l'altra. La gamba frontale, vado in fuori, non voglio vedere questo lavoro. La gamba frontale, vado in fuori, non voglio vedere la rotazione delle spalle. Sì, bisogna stare in controllo. Pronti? No, dai, a niente, grazie. Sul vaccino. Ok, pronti? Pronti? Ok, pronti. Pronti? La gamba destra. Via. via e un e aiuto close outside, up and close two same leg, right leg outside, outside and come back change the leg, the other one up, outside and close and now outside again five and go five and go five and go ok I have not asked for a big length but this work must be a strong length as big as possible every time ok, this kind of exercise should be executed with a very fast swing in the first phase and a big amplitude of all the movement something like that like this ok now support on the elbow like this bent on the elbow look at him ok, like this ok open your shoulder the chest higher as possible feet close together swing swing right leg outside then close and swing the left outside and then close outside 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 good only outside outside without circle only this ok hop hop ok ok for all the time of the exercise the upper body position should be with the shoulder open and the chest higher as possible ok he had a very good position he had a very good position ok 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 and he has to keep this position for all the exercise and for all the swing of the legs ok ok on one side like this you can also keep the shoulder open the shoulder open and close from this position swing swing you have to swing the leg behind the shoulder and close but without bending the hips this and turn the hips needs to be open ok one line not like this not pike straight ok please on that side yeah this bravissimo molto bene very good via e uno e due tre tre e quattro e cinque da su uno due hold the position cinque e da l'altra parte l'altra parte l'altra parte 5 cinque 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 non no non rossa rossa ha una domanda Prima è cinque minuti, dice Diego. La domanda è se le piazze devono seguire le legge o devono rimanere? Le piazze devono seguire le legge, ma senza sbendere. Porte e ritorna. Ok? Ok. Ok. Un'altra posizione. Porta i glutei stretti. Porta la gamba destra in fuori. No, no. Appoggia la terra. Ok? Più avanti possibile. Ok. Questa è la posizione. Spalle aperte. Tesa questa gamba. Al massimo. Spingi in basso. Da questa posizione. Stacco la gamba. Slancio e riappoggio. Stacco, adesso ci sarà da ridere. Ok. Iniziamo da questa posizione. Quindi, le piazze a 45 gradi. L'esercito è di elevare le legge e spingere. Ok. Chi non ce la fa, puoi anche tenere la gamba qui. Ok? Ok. Se non puoi, puoi iniziare da una posizione più bassa, quindi 90 gradi. Ma l'importante cosa è che prendi la posizione corretta del corpo. quindi anche se, un'altra posizione così verso il ilspothello. Quando ritiene la gamba di piedi, in questo modo. Qui, con l'arco. Qui, con l'arco. Ma con l'arco. E' quello che si fa, puoi prendere le scopi sull'arco. Qui. Eh, per capire. Che faccia? Chi, chi, chi. da qui ok guarda 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 e si girano un po' il bacino deve essere qui ok ok, guarda inizio ibs e qualcuno si gira un po' si, si, certo ok, da qui bene 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 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 17 19 19 20 20 22 21 21 22 23 22 23 24 24 24 26 28 27 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 40 31 30 31 31 32 31 33 33 34 33 34 35 35 35 Per esempio. Bravo! Bravissimo! Ok. Ok. Fai saluto? Io penso di sì. Diego? Vieni? Finito. Pronti. Le mani. Collo lungo. Le mani tirate. Apri le spalle. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Un, due, tre. Bravissimi!